Come hai scelto di entrare in Italia e in particolare a Zebra? Non è mai facile decidere dove vuoi giocare, ma Zebra mi sembra come un club che posso fare una differenza e per me è un nuovo progetto, è un buon club e spero di portare il mio tipo di gioco a loro e di migliorare dove posso Cosa è il tuo tipo di gioco e cosa ti porti a questa squadra? Credo che tutti conoscono il tipo di gioco che sono, mi piace un gioco fisico e non mi preoccupo di andare ma voglio giocare, è il più importante per me Sto guardando questo nuovo progetto e il nuovo progetto dopo queste tre settimane di tre settimane, qual è il tuo settimane nel club? E il tuo club, i tanti e la città? Sì, ho sicuramente, ho scelto in bene, ho scelto in, ho scelto in, ho scelto in, ho solo chiesto per la mamma a arrivare, ma ho piaciuto con i ragazzi, è un po' tremendo, i ragazzi hanno abbonato le le sue e le armature a noi, i South Africani, e mi invitano a incontrare a noi, i ragazzi del l'Est, in il club.